La prima volta che senti parlare Gallo, lo senti in televisione, io stavo sul bordo tanti tanti anni fa, fu a un costanzo scioglio, io ero seduto sul bordo della vasca da bagno per prepararmi il bagno e toccavo l'acqua per prendere la temperatura e vedevo nel soggiorno con le porte aperte la televisione, quando compare il piano, non mi ricordo cosa disse una delle sue e io sono caduto vestito nella vasca da bagno, capivamo al volo, perché l'impegno era duplice, era politico, sociale ma era anche spirituale e questo faceva della nostra amicizia un'amicizia molto particolare, lui si sentiva capito e io mi sentivo capito, forse non mi è mai capitato di essere così capito e ogni volta che Gallo mi chiamava io arrivavo, doveva esserci un impedimento grosso perché io non lo raggiungessi, non accogliesse la sua parola proprio perché il Gallo era e rimane per quel suo magistero che è entrato in noi che lo abbiamo conosciuto perché non puoi aver incontrato il Gallo e non essere cambiato, il Gallo ti cambiava, cioè ti offriva un orizzonte che tu non avevi conosciuto prima, mi sono perfino ritrovato a recitare il padre nostro nella chiesa dove il Gallo diceva messa, i miracoli del Gallo, perché una volta lui mi aveva invitato, dovevamo chiarare il padre di un'iniziativa, una delle tante e io arrivai che lui non aveva ancora finito la messa e entrai in chiesa e lui stava proprio creando il cerchio della solidarietà umana e mi disse, mi vide e mi disse, Moni Belin vieni qua che questo è anche per te ed effettivamente il padre nostro è una preghiera ebraica che San Paolo ha portato al cristianesimo e allora io recitai con lui il padre nostro, però il Gallo approfittò alla fine del padre nostro, uscì con una delle sue folgoranti battute per fare capire che anche nel momento più intimo della spiritualità lui non rinunciava a quell'ironia che paradossalmente è uno dei massimi ammaestramenti dei cammini del divino, non è vero che il percorso di fede è un percorso lugubre e triste, per quelli che lo capiscono come il Gallo è un percorso di grande ilarità e di grande capacità di cogliere il paradosso, allora eravamo tutti così mano nella mano il Gallo finì il padre nostro, noi con lui e lui disse adesso concentriamoci con grande forza perché dobbiamo fare un pensiero importante rivolto alla nostra chiesa e quando noi eravamo tutti serrati e concentrati, speriamo che la chiesa non ruini allora come posso dire, avevamo questa complicità perché lui sapeva fare umorismo e ironia su ogni cosa, prima di tutto su se stesso e non risparmiava neanche a Gesù e al buon Dio la sua ironia, questa è anche una grande lezione ebraica, si può ridere anche del Padre Eterno, anzi c'è un bellissimo racconto che un midrash talmudico che io raccontavo al Gallo che si intitola Dio ride e Dio in quella circostanza ride di se stesso per aver ficato il naso dove non doveva, è un paradosso ovviamente, ma il Gallo lo capiva, il Gallo capiva, veramente non mi sono mai sentito tanto capito in vita mia, perché con i compagni di militanza politica nella sinistra mi sono sentito capito, eravamo compagni e allora ci siamo, però sentivo che a molti di loro mancava la dimensione spirituale, il Gallo mi capiva anche questo, era un compagno ma era anche un uomo ovviamente di spirito, ma non solo come prete cattolico, era un grande cristiano e in questo lui accoglieva l'universalità della condizione umana infatti era molto bella questa cosa che aveva Andrea proprio di incarnare sempre le cose che diceva e che è fondamentale, forse questo è anche l'esempio e che poi il dettame della chiesa, della chiesa cattolica con cui gran parte di noi qua in Italia è cresciuto in qualche modo raccontano altre cose di quelle che si vedono in giro nella gerarchia ecclesiastica e che quindi il don in qualche modo incarnasse quegli ideali della chiesa originaria insomma della parola di Gesù. Io credo in questo che lo scandalo che suscitava il Gallo con le sue affermazioni provocatorie e terrodosse non sia molto dissimile da quelle che suscitava adesso Papa Francesco. Ecco infatti era una delle cose che mi ero preparata appunto delle domande da fare a Moni. Il don era molto favorevole al sacerdozio femminile, era molto favorevole, l'ultima volta che l'ho intervistato in pubblico è stato l'8 marzo nella lanterna e abbiamo molto parlato a lungo del sacerdozio femminile e anche di una donna eventualmente Papa e lui chiaramente era molto d'accordo. Ecco, quale sarebbe stato oggi il rapporto di Papa Francesco con Andrea? Si sarebbero incontrati? Cosa sarebbe successo in un'ipotesi possibile di un'Andrea che è ancora qua tra noi? Io ho scritto un articolo sulla stampa in cui mi rivolgevo indirettamente a Papa Francesco per non dico proporre la santificazione di Don Gallo che credo correrebbe rischia di provocare uno cisma nella Chiesa Cattolica, ma perlomeno che Papa Francesco rivolgesse magari nella famosa finestra un pensiero a questo straordinario prete che sapeva distinguere una cosa fondamentale. Questo vale per tutte le fede. Il Gallo distingueva la fede autentica, la grazia della fede, la spiritualità dal potere. Lui nella Chiesa combatteva le forme del potere. Quando cercava la sua Chiesa, cercava la Chiesa liberata dalle forme del potere, dall'intrusione del potere. In questo era legato, al messaggio evangelico originario. E ne aveva una concezione e una visione così straordinaria che si permetteva per questo di essere il rituale. Perché lo diceva in modo schietto. Ma cosa faccio io? Io seguo il solvo tracciato dal Cristo. Era molto semplice. Il problema è che laddove il potere intrude con il messaggio originario, sembra che quel messaggio diventi sovversivo, pericoloso. Ma una volta il Gallo lo disse in modo super rituale, ricevevamo un premio insieme qui in Viguria. E il Gallo, per spiegare il cristianesimo, disse che Gesù aveva tracciato un cammino e dice se vuoi, non era la fondazione di una religione, l'ha detto benissimo Don Albino, era la fondazione di un cammino, un percorso dove tu incontravi l'essere umano nella sua verità ultima. Il Gallo, per fare capire che non era una religione, non doveva essere un'imposizione, disse così. Insomma, Gesù ha tracciato questo cammino e rivolto gli ognuno ha detto se vuoi segui in questo cammino e troverai le cose che questo cammino ha aperto e se no va a cadare. Ovviamente uno che si esprime in questo modo non lo fa per fare la provocazione banale. quel dire non sono qui a corteggiarti perché tu diventi un baciapile e ti batti il petto. Io sono qui a dirti mettiti in cammino verso l'essere umano, mettiti in cammino verso te stesso per redimerti dal potere, per redimerti dall'arroganza, dalla violenza. Questo è il cammino tracciato da Gesù. Non è tutto la sovrastruttura. La religione va bene, non c'è niente di male. Io sono anche appassionato dei fenomeni del culto, soprattutto del culto popolare. Ma quello non è il merito. Ognuno la sua se la tenga e ci si diverta, non so come dire. Ma la vera questione che Gallo poneva era la questione etica, cioè del riconoscimento dei valori profondi dell'uomo e quello era molto più importante di qualsiasi forma religiosa. Era ovvio che fosse destinato a fare scarsa. Credo che Papa Francesco lo capirebbe molto bene perché questo è un Papa che appena è stato eletto la prima cosa che ha detto è già stata una bomba atomica. Ma nessuno ha fatto molto caso a questa cosa. Lui si è presentato non come Papa ma come Vescovo di Roma. Che è una cosa immensa perché per esempio la questione con gli ortodossi, vedete su questo una volta il Vescovo di Roma era primus inter pares e poi c'è stata la rottura, la separazione. Annunciare se stesso come Vescovo di Roma è una rivoluzione enorme e quando gli hanno voluto mettere solo a mantenere il potere, lui ha detto se lo metta lei al cardinale, guardi che il cardinale di Rigo è finito già da un pezzo. Cioè Papa Francesco rifiuta le forme esteriori per andare alla radice, cioè aver cambiato anche il crocefisso ridotto verso lo sfolgorio del metallo prezioso, ma molto più modesto. Lo stesso l'anello. Ricordo un gesto, non so se me lo sono immaginato, ma che quando lui appaga con quel crocefisso semplicissimo, un prelato importante che invece aveva ancora quello insomma molto bello e sfolgorante, fece come un gesto un po' per nasconderselo. E allora il Gallo era in piena sintonia con questo Papa. Io l'ho sentita così. Gallo se n'è andato in un momento in cui sapeva di poter affidare il suo greggio, che siamo tutti noi, anche se io sono ebreo agnostico, ho fatto parte del greggio del Gallo, ci ha affidati a qualcuno che può avere cura di noi. Infatti quando io sono sconfortato dai pessimi esiti della sinistra di cui faccio parte, ci ragiono sopra e dico io vado a prendere la linea in Vaticano. E cosa devo fare? perfino Raul Castro ha detto, quasi quasi se la chiesa è questa, vengo in chi. Io avevo fatto una promessa ai Gallo, gli avevo detto Gallo se ti fanno Papa ci penso seriamente a convertire. Papa Gallo. E lui disse non c'è pericolo, a me Papa non mi faranno mai perché sarebbe difficoloso avere come Papa, Papa Gallo. Mi ricordo lo disse anche in scena allo stabile, nei suoi spettacoli, raccontandolo come sapeva raccontare lui e eravamo tutti tratti da ridere, tanto per cambiare. Ecco, però una cosa volevo chiederti, sui diritti civili, sulle diversità, sull'omosessualità, sul sacerdozio femminile, ci potrebbero stati questo tipo di attriti tra Papa Francesco e Don Gallo? Oppure avrebbero evitato di parlare di però che andre a queste cose? Io vorrei, dico sempre questa cosa, quindi un pochettino tre naricciuti. Un Papa è un Papa, non è il presidente di un'associazione di anime belle, quindi bisogna che abbia delle cautele, gioco forza. Gallo non no, Gallo si poteva permettere questo e d'altro, ma è come per esempio nell'ebraismo dove non c'è un Papa, un rabbino è solo un signore che ha studiato, appunto. Ci sono i rabbini liberali, come si dice negli Stati Uniti, in quelle sinagoge si celebrano nozze omosessuali, ci sono donne rabbino. Io ho scritto qualcosa al proposito che era piaciuto al Gallo, in cui dicevo che è una responsabilità pesantissima aver escluso le donne dal sacerdote. La misoginia, la violenza contro le donne ha una sua radice in questa esclusione purtroppo e di questo sono colpevoli ebrei, cristiani, musulmani. Perché? Perché nella creazione della donna, ne parlavamo spesso, nella creazione dell'essere umano, la prima narrazione nella Bibbia compare in questa forma. Lo creò, maschio e femmine le creò. Cioè l'essere umano è creato in due aspetti ma ha la stessa dignità, hanno la stessa dignità. Quella è la seconda narrazione, ma quella è la narrazione più equivocata della storia delle religioni. Secondo me, la seconda narrazione ci dice che viene presa una parte dal maschio per metterlo nella femmina. Allora, facciamoci alcune domande. Noi possiamo avere quello più complesso. E qual è l'ultimo creato? La donna. Cioè la donna è l'essere più complesso, il più vicino al divinitario. Assolutamente. E perché l'uomo viene addormentato? Il futuro maschio. Perché Dio trasferisce alla donna il suo statuto più, come posso dire, più fondativo. Cioè la capacità di creare. Allora, perché mettere una parte del maschio nella femmina? Perché se si fa un'operazione donzia, si mette un elemento maschile nel femminile e si scava un elemento femminile nel maschile. Cioè quella parte, in ebraico è fianco, non costra, e viene tolta e è come se si aprisse nel maschio una sorta di utero. E quindi la relazione diventa possibile, perché se no la femmina generatrice sarebbe stata così potente che per il maschio non c'è la gara. Altro che invidia del pepe. Cioè mi dispiace, con tutto rispetto per si incontro è qua. Allora, la donna viene posta, la parola ebraica che pone la donna rispetto all'uomo è chenegdo, non di fianco, non in subordine, ma la parola è contro. Cioè la donna viene posta di fronte perché fra i due ci sia una relazione dialettica e chi ha una relazione con una vera donna lo sa quanto deve sputare fatica per reggere il confronto, perché il maschio è sempre soccombente se non ricorre alla violenza. Se accetta il confronto sul piano dialettico, se accetta il confronto sul piano dei sentimenti e dell'interiorità, non c'è dubbio che la parte maschile sia più fragile di quella femminile. Allora, l'avere sottratto alla donna il sacerdozio è stato una forma di intimidazione perché altrimenti c'era troppa paura del femminile. E sempre la violenza, la calugna, la brutalità nasce dalla paura. nessuno è violento se non ha paura. È un violento, è un uomo terribilmente spaventato dalla vita, un uomo autenticamente forte, una donna, non ha bisogno di ricorre alla violenza. Il maschio era intimidito di fronte a questo miracolo del femminile e ha scelto la via tipica dell'umanità, che è quella della violenza. La stessa cosa fra fratelli. Perché Caino ammazza bene, non perché è cattivo, ma non regge il confronto con l'altro. Perché bene l'altro è quello che è arrivato secondo. Con il Gallo ragionavamo su queste cose in continuazione e io trovavo grande alimento nella sua, come posso dire, nel suo coraggio. Perché il Gallo era un uomo di un coraggio straordinario. Cosa di cui il nostro paese ha un deficit spaventoso. il tasso di opportunismo e di biglaccheria di questo nostro paese non ha uguali nel mondo civilizzato. Il Gallo no. Il Gallo non si faceva intimidire. Non aveva paura di niente. Non aveva neanche paura della sua fragilità fisica. È andato in giro a portare la sua parola, il suo conforto, la sua amicizia, la sua capacità di sovvertire con la dolcezza, con la grazia dell'umorismo. Come Guevara che diceva senza mai dimenticare la tenerezza. Il Gallo incarnava questo tipo di ideale. E io mi sentivo confortato da lui. E continuo a pensare, Andrea, adesso che siamo confrontati con cose terribili, con il montare di nuovo di un populismo xenofobo, paranazzista, eccetera, ricordarmi la franchezza e il coraggio, anche fisico, con cui affrontava queste situazioni. Perché non le mandava a dire. Era sempre in prima linea, in prima persona. E poi Gallo aveva una cosa. Non so questa se gliel'ho mai detta. È una cosa che nessuno sa di Karl Marx. Che quando le figlie facendo giochi di società chiedevano al grande filosofo rivoluzionario, papà, ma cos'è per te la felicità? Marx immancabilmente rispondeva felicità per me e lottare. E Gallo era felice quando si batteva per gli ultimi. Gallo era felice quando si metteva a disposizione dell'antifascismo, dei diritti civili, dei diritti sociali, con la stessa passione di quando portava la parola del Cristo. Era un solo sentire. grazie Moni per le bellissime parole che hai speso per il femminile. Già che ho sentito dire cose così importanti per noi donne in pubblico. E devo dire che in effetti in questo paese è un po' vigliacco, come appena detto. È abbastanza difficile che trovare intellettuali, attori, gente dello spettacolo che abbiano una chiara e netta posizione nei confronti del femminile. Grazie per le bellissime cose che ci hai detto e ci consiglio di dire del Gallo. Ecco, abbiamo parlato di Papa Francesco, abbiamo nominato Raul Castro, abbiamo nominato Che Guevara e la sua dolcezza. Forse non tutti sapete che forse oggi, forse domani, sta arrivando in Liguria, Peppe Bucica. Sta venendo dalla Spagna, dove è stato in visita per conoscere il posto di nascita dei suoi nonni paterni e sarà domani e dopo domani a Favale di Malvaro per conoscere il paese dei suoi nonni materni. A me è un'altra persona, un altro piccolo grande uomo che appena a parlarne mi commuove. Sono stato in Uruguay quest'estate e tutto il paese parlava di lui, ma non solo la gente, proprio il paese parlava di questo personaggio. Ecco, come tutti sapete, è l'ex presidente Tupamarus dell'Uruguay e abbiamo fatto un articolo che ha fatto un sacco di visite e il giro di tutti i social, quindi è molto amato anche in Italia, è molto conosciuto. Ecco, è stato uno dei presidenti del mondo più amato negli ultimi anni in tutto il mondo e il New York Times anche gli ha dedicato una copertina e la sua frase che mi è rimasta più impressa e che mi commuove a dirla è «Povero non è chi possiede voto, ma chi desidera avere sempre di più». Ecco, un personaggio esemplare, Buchica, molto simile al Gallo, secondo me. Ecco, secondo te, se si fossero incontrati a Favale di Malvaro, magari anche con Amanzio Pezzolo che era un grande amico del Gallo, vicepresidente della compagnia dei Portuali, che era anche lui di Favale di Malvaro, con tanti parenti immigrati in Argentina, cosa si sarebbero detti il Don e il Peppe? Ma diciamo che se il Don fosse stato presidente di un paese sudamericano sarebbe stato come Mojica. Sono quegli uomini che hanno fondamentalmente una passione insopprimibile per l'umanità e sanno che l'umanità non si trova né nelle stanze del potere né nei luoghi della ricchezza. Noi abbiamo commesso alcuni errori, molti, ma una grandissima perversione. Pensare che la povertà sia un'endica. Guardate, povertà non miseria. Parliamo di povertà, cioè nel senso di sapere che ciò che hai non è ciò che ti qualifica. Ciò che ti qualifica è ciò che sei. E soprattutto ciò che ti qualifica è la tua capacità di riconoscerti nell'altro. Per il Gallo era automatico, per Mojica lo stesso. Sono persone che hanno una tale passione per la giustizia, per la giustizia sociale. Hanno passione per gli ultimi, non per esercitare una sorta di pelosa carità o generosità paternalistica. Hanno passione per gli ultimi perché sanno che lì si trova il cammino della verità. Sanno che lì si trova il nodo di svolta per un'umanità che vuole essere redenta da se stessa e essere redenta dall'aver fatto una scelta catastrofica. Questa umanità, soprattutto quella occidentale, quella che domina, ha scelto le deiezioni e i rifiuti invece del messaggio. Il consumismo è una ossessiva produzione dei rifiuti. Non so, lo vediamo nelle nostre spazzature. È impressionante cosa produciamo di spazzatura. E questa spazzatura in realtà non è solo l'oggetto, ma è ciò che noi frappeniamo fra noi stessi e il messaggio. C'è un bellissimo racconto di Kafka, di cui parlavo al Gallo, che si intitola Un messaggio dell'imperatore. È una parabola sul Messia, un po' alla maniera ebraico-cassinica. Cioè, Kafka dice che un imperatore molente manda un messaggio all'ultimo degli ultimi dei suoi soldi. Proprio la più remota ombra sperduta, nella più lontana delle montanze. Ma il messaggio è per lui. Allora il messaggero, che è bello, vigoroso, ha il sole imperiale sul petto, ascolta il messaggio, lo ripete all'orecchio del lei, il quale dice sì, e questo è il messaggio. E poi va. Ma Kafka ci dice che non ce la farà mai ad arrivare. perché i palazzi della residenza imperiale sono talmente innumerevoli che come si fa attraversare tutti? E poi dopo ogni palazzo c'è un cortile, e poi un altro palazzo, e poi un altro cortile. Che cosa sono? Sono i palazzi e i cortili del potere. Ma anche, dice Kafka, se il messaggero riuscisse a uscire dall'ultima porta dell'ultimo palazzo, si troverebbe davanti la città imperiale ricolma di tutti i suoi rifiuti. «Nessuno riesce a passare di lì», dice Kafka, «tanto meno con il messaggio di un moribondo». «Certo, se camminassi all'aperto, tu, ultima ombra sperduta, sentireste i vigorosi colpi della sua mano battere alla tua porta per portarti l'annuncio. Ma invece il messaggero si affanna inutilmente, non ce la farà mai. Ma tu, alla sera, ti siedi davanti alla finestra, guardi il cielo che volge al tramonto e aspetti il messaggero a dare un messaggio». Questa attesa è un po' il senso del messianesimo, costruire l'attesa e il gallo ti permetteva di costruire l'altro. Il gallo ti ricordava ogni volta che apriva bocca, ogni volta che scherzava o faceva uno dei suoi comizi da militante partigiano, perché era stato partigiano, tu capivi che il messaggio c'è e non devi rinunciare a favore della spazzatura. Il gallo sgombrava la spazzatura davanti a noi per tracciarci il cammino. E io credo che noi dobbiamo restare con il gallo. Chi l'ha conosciuto, e qui sono molti che l'hanno conosciuto, devono sapere una cosa, che il gallo è dentro di loro. Era impossibile che non ti entrasse dentro. Come facevi a non essere catturato, a non innamorarti, lo dico nel senso più laico del termine, di quell'uomo minuto che sprigionava una forza di cento titani, non so come dire. E poi quell'uomo sprigionava questa forza e poi improvvisamente calava in una delicatezza fragile. Io ricordo che mi commossi aveva lacrime quando lui mi raccontò di sua madre che venne a sapere che lo chiamavano il prete rosso, il prete comunista. E allora la mamma, malata, diventata una donna piccina piccina, gli domandò, Andrea, ma tu sei comunista? E lui disse, sì mamma, ma Andrea, ma tu sei un figlio di Don Bosco? E lui disse, sì mamma, non c'era contraddizione. Non c'era contraddizione. Questo vuol dire essere santo, sapere tenere le contraddizioni che redimono. E il giallo da questo punto di vista non aveva i guanti. Prova a pensare in questo momento al posto mio o qua in mezzo a noi c'è Don Andrea. Che cosa gli chiederesti? Qualcosa che non si è riuscita a chiedergli quando era ancora in vita? Beh, questa è una cosa molto intima che confesso. Quando la chiesa era nei momenti che il gallo trovava più deprecabili, lui faceva una cosa molto giocosa con me. Veniva ai miei spettacoli, veniva sempre. Poi alla fine veniva da me, ci abbracciavamo e lui dopo si staccava un po', piegava il ginocchio e mi diceva, eh, Moni, benedicimi tu che nella mia chiesa non ne trovo neanche una. Naturalmente era una buttata ed era un gesto di amore che aveva nei miei confronti. Ecco, se lui fosse qui, io gli direi tranquillo, tranquillo, Gallo, la mia benedizione ce l'hai chiede il colpo. Ecco, per ritornare un po' alle tante militanze del Domo, appunto, qui siamo in una piazza fondamentale per la geografia sentimentale e umana degli ultimi anni del Domo, perché da quando aveva scoperto e conosciuto le transe del ghetto, in qualche modo non era più riuscito a lasciarle in pace. Ecco, quindi aveva scoperto un'umanità che lo affascinava tremendamente e che vedeva molto in sintonia col suo vivere, col suo pensare nel voler star vicino a questa comunità. Vi ricorderete il calendario, vi ricorderete le mille volte che si è speso il libro di Rossella, appunto, che è un bellissimo libro che in qualche modo lei è stata proprio stimolata da Don Andrea a scriverlo. E, secondo me, è uno dei più bei libri sull'argomento che è uscito in Italia negli ultimi anni, l'ho letto con molto, molto, molto piacere. E, ecco, si era schierato, famosissimo, ce lo ricorderemo tutti, forse sulle cronache nazionali è apparso quando ha fumato il primo spinello in pubblico, no? Allora fece uno scandalo, uno scoppio di... anche attenzione nei suoi confronti. Un po' come quando Buchica ha fatto quel discorso ai venti dell'ONU, no? Mi pare che era in quel contesto in Brasile. Non mi ricordo... Al G20, ecco, al G20, sì, appunto, aveva fatto questo discorso rivoluzionario per un presidente. Ognuno ha il suo punto, no? Di rottura, in cui poi alla fine diventa estremamente popolare. E poi, ultimamente, si era schierato contro le slot machine, ci stava perdendo il cuore con tutti questi centri che aprivano la stampia di arena, con tutta la comunità che stava portando avanti parecchie discussioni e lotte per fare in modo che non continuassero a proliferare questo tipo di luoghi d'alienazione in un momento di crisi come quello che è italiano. Noi, ecco, oggi, oggi, quale nuova battaglia si sarebbe inventato? Nel senso che non si era inventato, erano cose vere, erano cose vive, erano cose importanti. Però cosa si sarebbe inventato in questo momento? Quale altra battaglia avrebbe portato avanti? Quale nuova battaglia col governo Renzi, col Job Act? Che cosa gli sarebbe venuto in mente, saltato per la testa? A parte chiaramente portare avanti sempre tutte le battaglie che negli ultimi 20, 30, 40, 50 anni dalla resistenza in poi sono sempre state le sue. Io credo che sicuramente Gallo sarebbe stato particolarmente coinvolto da questa nuova ondata della cosiddetta questione dei migrati. Credo che questo l'avrebbe coinvolto in maniera potente. La radicalità con cui lui affrontava le questioni avrebbe portato anche a opporsi con tutte le sue forze al Job. Job Act, come diavolo lo vogliono chiamare. Perché c'è qualcosa di cui Gallo era portatore integrale. Noi non sappiamo e non abbiamo in fondo mai saputo leggere i grandi libri come la Bibbia o il Vangelo. C'è un comandamento che tutti conoscono e ripetono come una stupida litania. Amerai il prossimo tuo come te stesso. È il super comandamento dei mortesi. È l'editico 18-19. L'ebraico suona così. E Amerai per il prossimo tuo come te stesso. E la parola era non vuol dire quello che ti sta vicino. Cioè il tuo compaesano, il tuo compatriota. È il volto di colui che ti viene incontro. È l'assunzione della responsabilità del volto dell'altro. Quando il Gailo appoggia la causa per il pieno riconoscimento dei diritti di gay, lesbiche e trans, non fa altro che mettere in campo il precetto. guardate la lungiviranza dello scritto biblico. Non è detto come deve essere il prossimo tuo. Non è detto Amerai il tuo prossimo bianco, cristiano, ebreo, musulmano, giallo, verde, trans, etero. E detto semplicemente è realtà, è il volto dell'altro. Non questa esclusione o discriminazione è uno sconcio senza limiti. E per questo il Gailo si era impegnato in prima persona. Perché è un fullus lo statuto dell'essere umano. Chi lo decide? Quattro politici idioti. Che cos'è un essere umano? Sulla base di leggi perverse, deglie delle leggi di non liberta. Allora io credo che il Gailo aveva questa integralità nel cercare l'uomo e nell'accogliere l'uomo. E questo sarebbe stato un problema fondamentale. Perché non è quello che Don Andrea aveva già conosciuto. Adesso c'è uno spostamento ulteriore. Adesso non si ha paura di dichiarare anzi c'è un partito che sta facendo fortuna su questo. Che l'altro che viene scacciato dalla fame disperato dalle guerre dagli assassini di massa e che viene verso di noi sia un pericolo. E questo è prima di tutto una menzogna. Grande come il Monte Everest. Il Libano ha due milioni di abitanti a un milione di rifugiati. Certo ci sono stati. Allora tutte queste cose servono solo a politici senza scrupoli per raccattare voti. naturalmente molti elettori sono fragili hanno paura la paura è il sentimento dei sentimenti più forti che domine e agisce l'essere umano. Ma c'è un piccolo problema che questo paese i cittadini di questo paese hanno conosciuto un'emigrazione che è arrivata da sommare 30 milioni di italiani in un secolo sono emigrati 30 milioni di italiani 4 milioni e mezzo erano clandestini allora non c'è la televisione che ti dava in tempo reale notizie che mirano a non farti capire quasi niente ma a sovrapporre notizie di scandalo su scandalo oppure a fare sensacionalismo in una o nell'altra direzione tutto questo osserva il sistema mediatico allora era diverso quando partì da Genova una nave intera che affondò a largo si chiamava Sirio si facevano i fogli volanti si cantava l'immane tragedia di quella povere gente quelli che vengono qui sono come noi anzi sono noi perché è un dato di fatto questo pianeta oramai è un piccolo pianeta e questa situazione è stata determinata dal più grande crimine della storia dell'umanità il più vasto non dico il più feroce ma sicuramente il più vasto si chiama colonialismo il colonialismo ci ha portato a questo mondo il colonialismo è responsabilità non unica ma principale dell'occidente questo modello è il modello occidentale il gallo l'avrebbe detto in modo molto forte forse avrebbe detto anche a Matteo Salvini vuoi andarli aiutare a casa loro allora vai in tutte le sedi delle multinazionali dei paesi africani e digli di levarsi dalle palle dall'Africa perché così li aiuti a casa loro impedendo che gli vengano rubate risorse in complicità con i peggiori dittatori c'è un perlumbo che si chiama land grabbing sono stati sottrati all'economia africana 80 milioni di ettari 80 milioni per fare cosa biocorburanti per servire l'alimentazione pletorica dell'occidente altro che aiutarli a casa loro con i campi profughi e in mano a chi rimetti quei campi profughi sono tutte bugie chiacchiere vaniloqui noi dobbiamo capire che non ne veniamo a capo i casi sono due e il Gallo l'avrebbe buonato in ogni angolo o noi siamo una civiltà dell'uomo o noi siamo una barbarie del razzismo e della discriminazione e non ne verremo fuori non si può risolvere questa questione affondando il barcone perché così si fa un piacere agli scafisti che chiedono più soldi cosa vuoi affondare un barcone quando puoi andare in un negozio e comprare un gommone sai che fatica fanno persone i delinquenti che siedono magari anche potenti che muovono miliardi di dollari sai che fatica fanno trovare altre imbarcazioni è una retorica falsa è il gioco delle tre carte bisogna trasformare la situazione in un progetto capire come il mondo si trasforma cercando di andare incontro a questa situazione non cercando di cancellarla noi siamo un solo essere umano su questa terra il gallo non smetteva di ricordarcelo e guarda 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 siamo tutti originari dell'Africa il nostro grande genetista Cavalli Sforza ha scientificamente dimostrato che noi siamo tutti homo sapiens sapiens africanos sostanzialmente il razzista è un coglione ritardatario perché l'ultimo altro esemplare di un'altra specie umana il Neandertal è sparito 40.000 anni fa da allora noi siamo tutti di quel ceppo il cambiamento somatico deriva solo dall'adattamento ai climi e alle situazioni nient'altro nient'altro allora guardate queste cose il gallo le sapeva istintivamente le diceva è per questo che non ha mai 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 negato l'accoglienza chi che sia e persino all'uomo più non so come dire all'uomo più lontano da lui vi ricordo quando fece scandalo dicendo siccome Berlusconi ha qualche problemino psicologico per esempio un priapismo travolgente cosa posso dire forse sarebbe niente di i mali se non avesse fatto il presidente del consiglio so come dire ma lui il gallo disse che venga in comunità lo aiutiamo noi ma non scherzare lui lo avrebbe accolto e lo avrebbe abbracciato Silvio vieni qui che ti spiego due o tre cose della vita perché a differenza di Silvio Andrea era un grandissimo umorista invece il povero Silvio fa ridere ma non sa far ridere e non capiva a che punto il gallo aveva la sensibilità di cogliere lui credo oggi avrebbe dedicato le sue forze principali a questa questione alla questione dell'immigrazione che sta diventando davvero impietante per tutti noi perché l'Europa sta regredendo paurosamente vedete una proposta che dice facciamo che le quote ognuno prende una quote e vengono immediatamente fuori resistenze perfino come si chiama il presidente Hollande che si chiama socialista attenti alla differenza tra le parole infatti perfino lui che è figlio di un paese che è stato il paese dell'accoglienza per l'antanomasia adesso respinge perché ha paura delle penne e così il Gallo avrebbe denunciato tutto questo il Gallo sarebbe andato in mezzo sarebbe avrebbe viaggiato sarebbe andato a Pozzallo sarebbe andato dovunque arrivava questa gente e col suo gesto primo semplice diretto così come non c'era porta chiusa nella sua comunità li avrebbe semplicemente accolti e cosa posso dire vorrei dirvi questa cosa il nome del Gallo il suo magistero per tutti noi adesso verrà istituito un centro di documentazione Don Andrea Gallo per il momento in una stanza nella comunità l'obiettivo è quello di mettere a disposizione della comunità scientifica dei mass media più in generale della connettività la documentazione cartacea visiva e sonora che lui produsse e è sostenuta avviata la fondazione Ansaldo e anche dal ministero dei beni culturali nella sezione archivistica questo gesto non dovrebbe essere solo l'istituzione di un archivio dovrebbe diventare per tutti noi un'espressione di ciò che il Gallo ha lasciato per tutti noi perché questo suo lascito cammini cammini e perché la voce del Gallo attraverso le sue testimonianze i suoi appunti gli innumerevoli video che ha fatto gli spettacoli tutto sia un punto di riferimento soprattutto per le generazioni giovani non solo perché i giovani sappiano che ci sono stati uomini così e che ci sono e che non è necessario ascoltare le litanie della classe dominante che oltre a essere una classe dominante che sta dalla parte dei dominanti è anche di una mediocrità francamente sconcertante io ho rimpianti persino per i peggiori del passato forse sarà perché sto diventando vecchio ma non credo perché chi appottere la classe operaia e i lavoratori chiamando un attacco allo statuto del lavoro al suo diritto alla sua dignità atto del lavoro guardate per chi come me conosce abbastanza bene l'inglese il ragino è già nelle parole avrei potuto condividere con Andrea questa cosa job in inglese è impiego è act è sì legge ma viene dall'idea di legge fatta d'imperio dal signore atto se si fosse voluta chiamare in inglese una legge volta invece alla relazione solidale fra imprese e lavoratori si sarebbe dovuto chiamare piuttosto labor path patto del lavoro perché in inglese quando si parla di lavoro come valore si usa la parola labor capital and labor not job allora la mediocrissima conoscenza in inglese del nostro presidente del consiglio che ci ha destato non poco imbarazzo l'ultima è stata dire che lui portava certe istanze to the chamber of deputies la parola deputy significa vice in inglese non deputato nel west nel far west significava vice cerico allora lui ha scelto una strategia precisa perché gli viene soffiata da qualcuno nelle orecchie per mortificare la condizione del lavoro per il gallo questo sarebbe stato inaccettabile avrebbe fatto fuoco e fiamme e io credo che questo lo dobbiamo andare imparare da Andrea forse l'ascito più prezioso per noi non mollava mai non mollava mai non si scorreggiava mai per quante cose brutte avesse visto lui sapeva che la cosa da fare è rimboccarsi le maniche e combattere perché spesso gli uomini del potere si credono eterni ma un giorno su certe leggi io propongo una goliardata una goliardata facciamo una festa con tanta birra e poi su certe leggi che cancelleremo un giorno o l'altro ci possiamo anche pisare sopra bravo 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 io farei un'altra domanda ancora e poi magari concluderei oppure magari continuiamo però qui dietro c'è Faber che incombe su di noi con uno striscione ecco se esistesse questo paradiso e si fossero incontrati e si fossero incontrati Faber e il Don cosa si sarebbero raccontati secondo te Mani io credo che per prima cosa avrebbero bevuto anche io anche io penso sì sì certo avremmo non birra e non birra sì perché erano bettori entrambi piuttosto robusti e poi fumato quante sigarette fumato sigari gallo sigari Faber sigarette io credo che con tutta probabilità si sarebbero cantate canzoni quelle che ti uniscono da quelle che Faber ha scritto a quelle che sono nel repertorio della passione ricordatevi che il gallo finiva sventolando un drapo rosso col bella ciao e non disdegliava neanche l'internazionale del lavoro in onorato onorato che i pavidi e coloro che si vergognano di ciò che sono stati oggi nascondono eppure una volta l'ho detto a Pierluigi Persani cos'hai contro la parola compagno? è una parola cristiana compagno Gallo me lo ricordava sempre è una parola così bella quella parola non importa se qualcuno mi ha fatto una parola nefasta ma noi dobbiamo ricordare il valore non è che tu dimentichi la grande lezione evangelica quando Paolo mette in bocca Gesù la frase ciò che fai allo straniero lo fai a me non è che perché ci sono stati momenti oscuri del potere ecclesiastico che hanno anche commesso le fandezze che tu dimentichi la radice originaria e allo stesso modo il gallo sapeva che questa parola compagno era una parola preziosa perché non c'è atto più nobile che quello di spezzare il pane con la persona con cui condividi gli ideali e non solo quindi io ho detto allora Bersani guarda che l'internazionale del lavoro era l'inno con cui concludevano i congressi i socialdemocratici tedeschi lui è rimasto perplesso perché non la sapeva questa perché non la sapeva l'internazionale del lavoro è un inno ed è detto illuminato perché parla del riscatto del lavoro ciò che ha reso questo mondo meno infernale di quello che è ed è venuto anche un cane a dare la sua approvazione la richiesa per l'Italia come si vede loro due oramai gli antici immagini alzano il pugno e caldano insieme l'internazionale del lavoro oppure addio Lugano Bella vindo degli anarchici altro lino che mi univa lui battiva la frammentazione della sinistra perché Carlo era un uomo impegnato in politica questa cosa lo avviliva profondamente cioè tu hai una raison d'etre cioè sai cosa devi fare combattere per la giustizia sociale per l'uguaglianza per i diritti del lavoro per i diritti degli ultimi per i diritti dei popoli oppressi questo è invece vedere che si baloccavano con questioni di lana caprina come continuano a fare adesso mi ricordo con quale amarezza ne parlavamo e Andrea era profondamente amareggiato da questo perché lui mai dimentico della lezione della resistenza antifascista e qual è stata una delle più grandi lezioni che in quel momento drammatico e tragico per l'Italia chi aveva questa fede partigiana fede anche nel paese non dimentichiamo mai che i cap erano gruppi di azione patriottica allora i patrioti veri dell'Italia andarono in montagna e si unirono e c'erano liberali e c'erano padogliani comunisti socialisti anarchici lui che aveva questa lezione da militante partigiano sai che tutte le volte che andavamo a mangiare la lanterna sempre ho fatto la pubblicità va bene oggi va bene ma sì ma anzi posso dire un piccolo episodio sulla lanterna e su quanto fosse un uomo marketing dei prodotti della sua comunità ha invitato me una sera a cena altre volte c'ero stata però una sera proprio per che facessimo un articolo su tutta la cucina e sulla lanterna insieme a miei due colleghi di mente locale e in pratica si è messo in posa con i dolci con i primi con i secondi si faceva fotografare è stato io lo conoscevo da anni eravamo 12 da anni per i miei due colleghi gli si è aperto un mondo straordinario di fronte che era quest'uomo e è stato a parlare ininterrottamente dalle 8 fino all'una non assolutamente solo del ristorante però di tutto quello che lui parlava quali erano i suoi cavalli di battaglia le cose che sentiva le cose che amava di più però alla fine gli abbiamo fatto tutte queste foto con i piatti proprio sembrava poi condiviso questo articolo è stato visto tantissimo perché ovunque si parla del caldo ed è servito tantissimo perché poi anche Domenico mi disse che la settimana o la settimana dopo il locale si era riempito ecco era anche un uomo marketing per la sua comunità in maniera chiaramente molto alla sua maniera mi cadono le occhiali di consiglio comunque il gallo quando mi invitava all'interno sempre ci mangiava lì alla fine del pasto prima che io me ne andassi diceva vieni che andiamo a salutare il comandante noi ci alzavamo con aria di rispetto andavamo nella sala a fianco dove sedeva il comandante che era il fratello di gallo perché il comandante era il suo fratello tu sai no questa cosa dunque Don Andrea aveva questo cruccio che questo spirito al quale lui aveva diciamo esposto a rischio la sua giovane età suo fratello maggiore si esponeva è diventato comandante e quello spirito di essere uniti per i valori per gli ideali essere sostituito dal vizio più se posso dire più turpe non solo della sinistra ma in particolare della sinistra l'infame narcisista non questa era una cosa che affliggeva il gallo perché noi combattiamo le battaglie politiche per gli altri non per vetticare noi stessi o il piccolo identitarismo allora ecco io dico questa cosa perché so che Andrea ci ha sofferto tanto non poter vedere una forza nella quale riconoscesi e una forza che trasformasse in politica ciò che lui dice comunque io vorrei concludere dicendo vi prego tutti sosteniamo questa fondazione dell'archivio di Don Andrea Gallo perché un giorno non lontano verranno a fare tesi di laurea su questo prete unico nel pianeta secondo me non solo non solo in Italia ed è giusto che ci sia una produzione letteraria e culturale io credo che se Gandhi fosse stato vivo ai tempi di Don Gallo sarebbe venuto anche lui nell'archivio a dire ciò che vado a imparare qualcosa grazie signori grazie a tutti